Presidente Marabotto, come si inserisce la cooperativa della Prateria nel vostro progetto? La cooperativa della Prateria è una realtà molto interessante di questo territorio che si inserisce molto bene nel progetto che stiamo portando avanti come centrale cooperativa. Noi riserviamo un'attenzione particolare agli operatori dell'agricoltura sociale, cioè quelle cooperative che in ambito agricolo si occupano di dare lavoro agli svantaggiati, alle persone con svantaggio. Questa cooperativa è una realtà fondamentale in questo senso di questo territorio e siamo molto contenti oggi che entri a far parte anche del nostro circuito con i diretti di Campania Amica perché si creano quelle sinergie tra il lavoro che realizziamo noi come cooperativa e quello che realizza Campania Amica per promuovere i prodotti di questa cooperativa dal punto di vista commerciale. Quindi è una grande occasione, siamo molto contenti di essere qui a celebrare questo ingresso nel nostro circuito di Campania Amica.